Big Mac Aprici il locale sale la temperatura Ciao amici youtube qui con voi c'è il Bunzai E oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi come detto dal titolo Siamo ritornati con un'altra Grandiosa 24 ore Oggi ragazzi però il protagonista Della 24 ore non sono solo io Ma anche altri youtubers Perché come detto dal titolo oggi Mangerò per 24 ore quello che Decidono alcuni youtubers Li ringrazio pubblicamente E ringrazio anche voi per la visione di questo video Mi raccomando lasciate un bel mi piace un bel commento Guardate tutto il video perché è davvero Grandioso epico Assurdo scaricate anche OneFootball Primo link in descrizione mi raccomando Scaricate questa applicazione che è gratis Tutte le notizie sul mondo del calcio Li potete trovare scaricando questa applicazione Nel primo link in descrizione Mi raccomando OneFootball gratis Niente detto questo direi di non perderci in chiacchiere In questo video come in tutti i miei video Dove si mangia vi verrà fame E niente buona visione Ragazzi buongiorno sono qui da mia nonna Ciao nonna Ciao Oggi sono qui perché mia nonna dovrà Preparare il ragù napoletano Incredibile Sì vai nonna vai Sfumatina col vino bianco Quindi noi ci vediamo dopo quando la salsa sarà quasi pronta E ci vediamo poi a pranzo per mangiare Ok io sono sceso ragazzi Sto andando a casa Nel frattempo che la salsa si cuoce sopra dalla nonna Io vado a fare colazione E vediamo che youtuber ci ha detto cosa mangiare Quanta roba mangiare Vediamo un po' Andiamo a fare colazione va Eccoci qui ragazzi siamo pronti per fare la grande grandiosa colazione Vediamo lo youtuber in questione cosa ci dice di mangiare Ciao ragazzi io sono Nicolonia Oggi entrivo a decidere cosa mangerà il buon misciale Allora vai io devi mangiare tre babà E poi due sfogliatelle Una riccia e una rolla Mi raccomando è che quando per Rome Queste cose me le devi far assaggiare Per forza mi raccomando Buon appetito Cavolo E ovviamente ragazzi io ho preso i tre babà Eccoli qui questi qua semplici Uno con la cioccolata Prima sfogliatella E seconda sfogliatella Guardate qui questa è enorme Direi di assaggiare subito il babà Parto col babà Babà Capro Per voi buon appetito Ringrazio Nic Radogna Caro Nic Tu mi fai salire il diabete a 6.000 Però vabbè Almeno mangio qualcosa di buono Buono Dovete sapere che a me non piace tanto il dolce E babà Sago le mani Voglio assaggiare questo qua con la cioccolata Ragazzi Mamma mia Questo è bello insuppato pure Oddio Madonna mia ragazzi Madonna mia Voglio fare un saluto speciale alla dieta Ciao dieta Questo qua è una cioccolata Spaziale Voglio assaggiare una spogliatella Ecco qua questa qua piccolina Buona colazione anche a voi Se state vedendo questo video di mattina Buona Beh Guarda se venite a Napoli Pure questo dovete mangiare la spogliatella E babà Ma come sto babà quanto è pieno di rum È arrivato un certo Già faccio più a mangiare il dolce Ma devo farlo Per voi Oltre per voi Voglio assaggiare questo babà pieno di rum Ragazzi Mamma mia È strapieno Vado Si sente Si sente Madonna mia Number one Babà ragazzi Mamma mia ragazzi Eccola qui Un'altra spogliatella Frolla Rich Mario Hortomanga Che roba è Sarà super croccantissima E super buonissima Secondo me Beh Tanta roba Mamma mia Si è ripiena questo ragazzi Mamma mia Cioè guardate qui Non ci faccio più Ultimo sforzo Sento gli zucchi dietro la schiena ragazzi Li sento Ultima morso Finalmente Non ci faccio più Quindi ragazzi Noi ci vediamo a pranzo Pranzo speciale Niente ci vediamo a pranzo Eschere Lo senti male È arrivata l'ora del pranzo Finalmente E vediamo lo youtuber In questione Cosa ci dice di mangiare Ciao le boom Allora Io per pranzo Ti dico che Ti ricordi quando Mi hai ospitato Che ho mangiato Da tua nonna Era buonissimo Era buonissimo La nonna napoletana Si sa che cucina bene Quindi Dovrai mangiare La pasta al sugo La carne al sugo Le polpette fritte E le melanzane Fritte Poi ovviamente Voglio vedere il video Perché Mi verrà la cuna in bocca E infatti Vedi di Di organizzare Più presto Che voglio venire Anche io a mangiarla Un salutone Grande ZW Jackson Che è stato ospite A casa mia Ha mangiato Tutte queste cose E ha deciso quindi Di farmi mangiare Queste cose Anche a me Per questa 24 ore Ecco quindi La nostra pasta al sugo Le polpette fritte E poi dopo Ovviamente abbiamo anche I pezzi di carne Belli Piedi di salsa Morbidi E le melanzane Io direi però Di mangiare subito La pasta Altrimenti si fa freddo Mamma mia Buon appetito ragazzi Mamma mia Che sapore Che ve lo dico fa Questa ovviamente È la salsa Che ha fatto nonno Come avete visto È stupenda Una critica Devo fare Mamma che ha cotto La pasta Ma È scotta La pasta Sta salsa Ha un sapore Spettacolare Per voi Mi mancava la pasta Ragazzi Che te sapete Che sto a dieta Cioè sto 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 mangiando il riso Tutti i giorni Si soffre Devo dire la verità Si soffre Quindi oggi è domenica Mi codo questa giornata Un bel piatto di pasta Grazie ZW Jackson Grazie C'ho il pane Da scarpetta Qui per forza Non importa se Se c'ho il pane Se faccio la scarpetta Mi frega un cazzo Della dieta ZW Jackson Grazie per avermi fatto mangiare questo Ti stimo Se facciamo la polpetta ragazzi Per voi Polpetta fritta ZW Per te Mamma mia Che sapore Sta polpetta Ma tu non le fai così Non le fa più buone Croccanti Morbide Sente il pane L'aglio Prezzemano Ecco il pezzetto di carne Ecco la melanzana La carne Latte Sciogli un buco Melanzana ripiena Buona Tanta roba Quindi ragazzi Il pranzo di oggi Finisce qui Mentre io mi finisco Questo pezzettino di carne E niente Noi ci vediamo Quindi stasera Vediamo cosa mangiare Niente a dopo Ragazzi eccoci qui Al McDonald's Sono qui con Ciro Dovevo venire con Cristian Vai a casa di un amico Sociale Allora Allora Per il pranzo Che puoi mangiare Io ti dico Una cosa azzuzza Vai al McDonald's Te prendi Te prendi Un Crispy Mac Bacon Un Big Mac Uno per te Uno per tu fratello E Patatine Mac Nuggets Te devi sfollare Di andare al McDonald's Te devi sfollare Voglio vedere Caro Seedport Per te Big Mac Dinemi quello che volete Ma il Big Mac È insuperabile Grazie si muove Mi hai fatto prendere Big Mac Un po' Un po' Qui è andato Vabbè Lo sapete Patatine Mac Top Però io c'ho ancora questo C'ho Gran Crispy Questo ragazzi È il panino preferito Di Cristian Salutiamo Ciao Cristian E niente Vado pure con questo Questo c'ha una salsa Buonissima Bacon croccante Doppio hamburger Il mio fratello è ben intenditore Due panini del Mac Ciruso Sì Sto letteralmente scoppiando Ma questa 24 ore Caro Ciro Non è finita qui Domani mattina Dovrò fare colazione Vedremo con chi youtuber E niente Vediamo domani mattina Solo che tu non ci sarai Ciro Ciao a domani Buongiorno Siamo qui Per fare l'ultimo pasto Di questa grandiosa 24 ore Con la colazione Vediamo Finalmente ci sei tu Ciao Cristian Ciao ragazzi Vediamo chi youtuber Ci ha detto di mangiare cosa Ciao Ciao Allora Come vedi Sono qui a casa Ragazzi Ciao Tutti quanti Allora Lo sai che io sono buono Con queste sfide Quindi ti dico Beviti 5 bicchieri Di latte di plastica Che rivalgono più o meno Una tazza di latte Più Kinder merendero Kinder bueno E facciamo Una kinder fetta al latte Va Bella 5 bicchieri di latte Faccelo babà Mamma mia Mamma mia Facciamo una pallina Io e una pallina Tu Sì Buona volazione ragazzi Buono E ci beviamo su Un bel bicchiere di latte 5 bicchieri Mamma c'è così 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 Bravo Non so Andrei Tu come faccio a bere così tanto latte A me piace Però Diciamo In porzioni misurate Assaggiamo La mia merendina preferita All'interfetto Stasciato Boh Madonna Quanto Quanto Di bacio Mi verrà Troppo buona Inder fetta al latte Spita Spita Quanti secondi ci metto a bere Su bicchiere di latte 5 Vai 3 2 1 1 2 3 Fai schifo Ragazzi il Kinder bueno Bianco È molto più buono del nero Cioè Forza Ging Ma è proprio Kinder che è buono È raro Sta zuppando No No Questo video può finire qua Quindi se vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Tanti pollicioni in su Commentate Iscrivetevi al canale Mi raccomando Da me Da Cristian Da questa 24 ore Ringrazio tutti gli youtubers Che hanno partecipato È tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Bella Ciao ragazzi Mi sto prendendo il mal di punch Roll me Oh